Salomon Addict è uno sci facile e reattivo che ti permette di alternare curve corte e lunghe quando scii tutto il giorno, con un raggio di 13 metri e 66 mm al centro nella lunghezza di 170 centimetri. Costruzione con nucleo in legno di pioppo, doppio strato di titanale Blade Technology, fianchetti in ABS riciclato. Gli sci hanno un profilo camber. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!